Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 a causa di un veicolo in avaria 5 km di coda tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fibili per lavori 3 km di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo-Fiorentino. Rallentamenti tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo in direzione Mare. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Ci sono poi rallentamenti per lavori tra il Bivio, Pisa-Livorno e Ponte d'Era-Ovest-Ponsacco in direzione Firenze. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!